La partita tra Ionica e Asci Sant'Antonio si giocherà domenica alle 14.30 come da calendario. Non ci sono state rettifiche, l'allerta meteo sembra rientrare, quindi ad oggi non ci sono motivazioni tangibili che inducano a pensare ad un rinvio. I sant'antonesi dal canto loro sperano di giocare durante questo weekend, soprattutto perché sarebbe complicato organizzare una trasferta in mezzo alla settimana. Riguardo ai fatti di campo, la squalifica di Don Zuso mette Lucio Tosto in condizione di scrutare ancora più attentamente la rosa degli under. Lo staff non svela nulla, l'allenatore vuole che i ragazzi rimangano concentrati come se dovessero essere tutti impiegati dal primo minuto. Facendo la conta degli uomini però, ci rendiamo conto che la scelta del coach potrebbe ricadere su due giocatori in particolare, Foti o Lamotta. Il direttore Castorino nel frattempo continua a promuovere tutti i pilastri concettuali della cosiddetta mentalità vincente. La squadra deve cercare la vittoria in ogni dove, anche e soprattutto sul campo di una diretta contendente come la Ionica. Dei messinesi abbiamo già parlato per sommi capi e la stessa dirigenza etnea ha avuto modo di studiare l'avversario in occasione della sesta giornata di campionato, quando si giocava Ionica Troina. L'elemento che ha colpito più di ogni altro è stato l'organizzazione del team di Filoramo, attrezzato in tutti i reparti. Aspettando la svolta, se ognuno ha un libro impresso in mente da dedicare alle proprie avventure, allora questo sarà il titolo del decimo capitolo del romanzo del Sant'Antonio.